Oggi, vigile di Natale, come ogni anno abbiamo chiesto ad un sacerdote di lanciare un messaggio alle comunità in occasione della nascita di Gesù Bambino. Quest'anno abbiamo chiesto di farlo a Don Salvatore Verzi, parroco della Chiesa Santissimo Salvatore di Biancavilla, chiesa nella quale a breve inizieranno i lavori per la costruzione della nuova e più grande casa di Dio. Come bisogna vivere il Natale del Signore? Il Natale del Signore è bello viverlo innanzitutto avendo un cuore. Avendo un cuore dove il Signore che viene, che viene ad abitare, ad abitare, a farsi carne proprio nella storia dell'uomo, di ogni essere umano. Il Signore che viene, viene a portare la pace, viene a portare l'amore, la misericordia. E bisogna prepararsi a questo incontro con il Signore proprio predisponendoci il cuore. Perché il Signore irrompe, irrompe nella nostra vita. Bisogna essere attenti, attenti a che questo incontro accade, perché l'amore che è Dio possa ancora manifestarsi, farsi vedere proprio attraverso ciascuno di noi, così come siamo. L'amore ci interpella, l'amore chiede cittadinanza in questo mondo, chiede di essere visibile, di farsi proprio carne. Un messaggio particolare per chi soffre, sia nel corpo che nello spirito. Un messaggio. Oggi la Chiesa riceve un annunzio. Questo annunzio viene portato a Maria, ma viene portato a tutta la Chiesa. Rallegrati, non temere. Dio ti ama, Dio è con te. Questo annunzio vorrei che arrivasse a tutte le persone che sono sole, che non avrebbero nessun motivo, per le circostanze tante volte avverse della vita, a dire Natale è bello. A te vorrei dire, proprio a te che ti senti solo, che ti senti sola, a te che quest'anno sei stato visitato da un avvenimento spiacevole, anche dalla morte. Vorrei dirti Dio è con te, Dio non ci lascia soli, Dio non ci abbandona, rallegramoci, rallegramoci perché nella vita non siamo soli, Dio è con noi. Dio è al nostro fianco, Dio lotta con noi, Dio è la nostra speranza. Dio è quell'amore che incontrandoci ci fa belli e soprattutto fa nuove tutte le cose, fa nuova anche la nostra vita. L'augurio soprattutto a chi soffre è proprio questo. Appoggiati a Dio perché Dio ci ama e Dio ti ama.